Recensione veloce di Strange Way of Life, cortometraggio di 32 minuti diretto da Pedro Almodovar che appunto è stato presentato prima al Festival di Cannes di quest'anno e che è uscito in cinema un mese fa per poi arrivare oggi sulla piattaforma streaming Mubi. In teoria io dovevo vederlo oggi su Mubi però avendolo messo solamente ora, distante di un mese, nel mio cinema del sé a Lecce ho detto va bene andiamo a vederlo a tutto, approfittando l'ho visto e vi posso dire che personalmente lo trovo un buon prodotto nulla di più in realtà, è un buonissimo corto che parla come protagonisti Pedro Pascal e Itanok che sono in questo caso due cowboy, in particolare Itanok uno sceriffo, lui un cowboy che si rincontrano dopo 25 anni e hanno una notte di passione tra loro è nata la passione e la gioventù, il desiderio di stare insieme e ad un certo punto però si scoprirà diciamo la vera intenzione dalla parte di uno dei due e da lì ci sarà un conflitto che metterà in discussione la loro storia d'amore quindi è questo tipo di racconto qui un po' alla I Segreti di Brocomet Mountain che ricordiamo inizialmente che la dirige Almodovar e poi alla fine non ha diretto e quindi procede lui di stesso setto e questo un po' il suo I Segreti di Brocomet Mountain in realtà per me è un corto che funziona anche per quanto nel finale secondo me sia troppo frettoloso, arrivi troppo di colpo e non venga sviluppato cioè quando finisci tu dici, ah, finisce così? non perché ti aspettassi che finisse tra un'ora però semplicemente mi aspettavo qualcosina di più comunque non c'è nulla da dire di davvero negativo è ben diretto, ben messo in scena, sono bravi gli attori c'è un dialogo molto affascinante in camera da letto tra loro due che è bellissimo, quindi funziona io l'avrei anche dato a lungometraggio personalmente magari aggiungendoci più robe e sì, è questo il punto se all'inizio ti sembra un corto perfetto man mano quando inizia ad aggiungere un po' più di elementi capisci che ci volevano almeno dieci minuti in più quindi sì, diciamo che è un corto un po' troppo corto però questo sempre antagonismo nel western tra l'amore e la giustizia comunque è affascinante qui ha il suo perché un po' diciamo sì, un po' dal filo nascosto sul finale però anche lì il finale mi doveva essere un pochino più sviluppato invece qui davvero troppo veloce e frettoloso però comunque è un film interessante ecco, quindi se avete l'occasione recuperatelo su Mubi che è una piattaforma che io vi consiglio assolutamente questo è il mio parere, molto veloce su un film molto veloce, chiaramente essendo un corto noi ci vediamo alla prossima fatemi sapere la vostra su questo film io vi avrei parlato anche in maniera uno spoiler e noi ci vediamo